Andiamo tutta in scena Andiamo le pronte in sartuaria per favore Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Poi ti muovi Vai Motore Azioni Alta un pochino la testa Stai indietro all'inizio Adesso guarda in alto là giù Alzi verso l'inizio Guarda sempre le mie mano Non vi va come vi guardo Non vi guardo Eh non vi guardo Giriamo Buonasera ragazzi Nel 2019 a Roma All'interno di Cinecittà È stato inaugurato un nuovo museo È il MIA Il Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema È uno spazio immersivo e emozionale Che consente al visitatore Di ripercorrere la storia del cinema italiano Nei suoi rapporti con gli altri media visivi e audiovisivi Dal fumetto alla televisione Dalla pubblicità al web All'ingresso del museo Ad accogliere il visitatore È stata scelta e riprodotta Una frase di Federico Fellini Che dice così L'unico vero realista è il visionario È una frase secondo me di grande suggestione Perché fonde e ibrida Quelle che da sempre sono le due ossessioni ricorrenti Del cinema italiano La passione per il reale Il realismo da un lato E la visionarietà Il desiderio e il bisogno di andare oltre la realtà E di costruire universi immaginari Dall'altro lato Questa duplice matrice Che sono alcuni grandi maestri Alcuni geni Come Fellini Ma anche come Visconti Antonioni Bellocchio O Bertolucci Hanno saputo portare a sintesi Dicevo questa duplice matrice Si ritrova anche nel cinema italiano contemporaneo E ne costituisce anzi La marca identitaria più evidente Anche nelle ultime stagioni Il cinema italiano È stato caratterizzato Cioè dal continuo confronto Fra la ricerca di un realismo spesso estremo E l'ambizione di trascendere la realtà Di inventare altri mondi Ambizione che ha trovato spesso E l'espressione più compiuta soprattutto nel cinema di genere In mezzo a fare da perno e da centro gravitazionale Di tutto il sistema produttivo C'è la commedia Che continua a essere il Porto Franco La coine del cinema italiano E poi ci sono alcuni grandi autori Come Marco Bellocchio Come Paolo Sorrentino Come Matteo Garrone Che agiscono, progettano, filmano Sempre in bilico appunto fra realismo e visionarietà Questa è la mappa Questo è il territorio di riferimento E adesso proviamo a esplorarlo più in profondità A cominciare proprio dalla ineliminabile vocazione al realismo La passione per il reale Continua a costituire una delle anime più autentiche del cinema italiano Ben oltre il documentario Che pure negli ultimi anni ha conosciuto un rilancio Una fioritura davvero eccezionale Come testimonio nei lavori di cineasti Come Gianfranco Rosi Come Pietro Marcello O in tempi più recenti Agostino Ferrente L'autore di Selfie È un'attenzione per il reale Abbastanza diversa da quella di un tempo E ormai anche svincolata Dalla tutela pur nobilissima del neorealismo Della poetica neorealista Il cinema italiano contemporaneo Conserva sostanzialmente tre aspetti La predilezione per attori non professionisti o semi esordienti La scelta del dialetto e della presa diretta sul piano sonoro E infine l'ambientazione in luoghi reali E il rifiuto dei teatri di posa Sul piano invece tematico Il filone realista del cinema italiano Oscilla fra tre diversi poli Che riguardano rispettivamente La rappresentazione e la percezione Dell'adolescenza Della alterità e della marginalità Vediamo di esaminarli ad uno ad uno In primo luogo C'è uno sguardo molto attento Al disagio dell'adolescenza Il cinema italiano Ha sempre prestato molta attenzione A quest'età della vita In cui non si è più bambini Non si è ancora adulti Penso a un maestro come Luigi Comencini Ma anche ad autori come Gianni Amedio Col suo film L'ador di bambini O in tempi più recenti A Ivano De Matteo Con i nostri ragazzi Adesso lo sguardo sull'adolescenza È ancora più nobile È ancora più arrabbondo E deve fare i conti Con un tempo e un mondo In cui è sempre più difficile Diventare grandi E forse l'età dell'innocenza Non esiste più Il film più rappresentativo Di questa tendenza È credo L'apparanza dei bambini Di Claudio Giovannesi Tratto dall'omonimo romanzo Di Roberto Saviano L'autore di Gomorra Il film indaga In quella ferita Non cicatrizzata Che è la criminalità giovanile Nel ventre di Napoli E in alcuni momenti Sembra quasi essere Un western partenopeo Con i motorini Al posto dei cavalli Le piste di coca Al posto del rum E i saliscendi Sui vicoli Del rione sanità di Napoli Al posto delle praterie E della polvere Del vecchio west La differenza è che I protagonisti Non sono vecchi cowboy O pionieri Ma ragazzini Di 15 anni Che perdono La propria innocenza Nel momento stesso In cui oltrepassano La propria linea d'ombra Nicholas, Tyson, Biscottino E tutti gli altri ragazzi Che fanno parte Della paranza Sono giovani attori Reclutati Tra i vicoli di Napoli Il regista Li ha sottoposti A un lungo training E poi li ha portati Sul set Scegliendo di non battere Neanche il ciac Per non istituire Una differenza Fra il tempo Della realtà Prima del ciac E il tempo Della finzione Dopo il ciac E il risultato È un film Che riesce a farci capire Perché Nicholas E gli altri Si comportano così Senza per questo Entrare in empatia Con loro Cioè Giovanese riesce A farci vedere Il mondo Dal loro punto di vista Senza che questo comporti Una Assoluzione O una condivisione Da parte nostra Il secondo filone Del cinema realista Italiano contemporaneo È quello che indaga Sulle vite degli altri Quindi sui profughi Sugli esuli Sui clandestini Su tutti coloro Che in qualche modo Vengono percepiti Come diversi E un film emblematico Di questo filone È sicuramente A Ciambra Di Jonas Carpignano Un palpitante romanzo Di formazione Di un ragazzino Di 13 anni Rom Semianalfabeta Posseduto da una Divorante voglia Di crescere E di diventare grandi Ma rispetto Dell'apparenza Il film Non è una Doco fiction Su una comunità rom A Gioia Tauro In Calabria Ma è un esempio Credo riuscita Di cinema tribale E probabilmente È proprio questo aspetto Che ha intrigato Martin Scorsese Che è stato colpito Al punto Da scegliere Di essere il produttore Esecutivo del film Perché nel mondo Che Jonas Carpignano Mette in scena Non c'è società Non c'è neppure famiglia Ci sono invece Piuttosto solo tribù Ci sono i rom Ci sono gli africani Ci sono gli esponenti Della andrangheta Locale Come in un film Di Scorsese E le varie tribù Interagiscono Si alleano Tradiscono Si scontrano E il giovane protagonista Sta in mezzo Prigioniero di un codice Che lo proietta In un paesaggio Da tragedia greca E nel finale Quando deve decidere Se restare fedele Al legame di sangue Che lo unisce Alla famiglia O se preferire Il codice E dell'amicizia E dell'amicizia Il film Il film si svolge Nella periferia romana Fra degrado Desolazione I due protagonisti Vivono lì Sono ragazzi di Borgata Sono amici di infanzia Sono studenti contro voglia Con famiglie sfasciate alle spalle E una notte Per sbaglio Investono un uomo E lo uccidono Il morto Era un pentito Della malavita locale Piuttosta E l'averlo eliminato Sia pure involontariamente Fa sì che i due Vengano apprezzati Dal boss malavitoso Che come per una paradossale E perversa ricompensa Li ingaggia Nell'organizzazione Con l'incarico Di eliminare avversari Di spacciare droga E controllare Il traffico Di prostitute minorenni È l'inizio Di una vera e propria Discesa all'inferno E i due attori Protagonisti Sono bravissimi Nel mettere in scena La perdita dell'innocenza E il trauma Del diventare grandi In un mondo Che non conosce più Né amore Né pietà Né morale Né senso Di responsabilità Il dato più nuovo E significativo Delle ultimissime stagioni È comunque Il forte rilancio La forte ripresa Del cinema di genere Che per troppi anni Aveva trovato Poco spazio Nel sistema produttivo Italiano Le prime avvisaglie Di questo rilancio Si erano viste Già qualche anno fa Con i primi film italiani Incentrati Attorno alla figura Del supereroe Penso a Il ragazzo invisibile Di Gabriele Salvatores O lo chiamavano Gigrobo Di Gabriele Mainetti Nell'ultima stagione La tendenza Si è accentuata C'è chi ha cercato Con coraggio Di rivisitare La tendenza Horror Del cinema italiano Come hanno fatto Per esempio Luca Guadagnino Con Sospiria O un maestro Come Piavati Con Il signor diavolo E c'è chi si è cimentato Addirittura Con un genere Poco amato Storicamente Dal nostro cinema Come il musical E mi riferisco Ai fratelli Manetti Con amore E malavita Il film più rappresentativo Della rinascita Del cinema di genere È però senz'altro Il primo re Di Matteo Rovere Una rilettura In chiave Epico-fantastica Del mito di Romolo e Remo E della leggenda Della fondazione di Roma Nella 753 avanti Cristo Rovere fa una scelta Coraggiosa Spergiudicata Decide di far parlare I personaggi In una lingua arcaica Una sorta di proto-latino Che esige la proiezione Con i sottotitoli Anche per il pubblico italiano E che immerge la vicenda In un'atmosfera barbarica Primitiva Il latino è una scelta geniale Non tanto e non solo Perché quei guerrieri Vissuti quasi duemila anni fa Sarebbero stati ridicoli Se avessero parlato Con l'accento romanesco O con l'italiano omologato Dei doppiatori delle serie tv Quanto perché questa scelta Contribuisce a immergerci In un altrove arcano Dove anche la lingua È un veicolo di comunicazione Con la natura E con gli dèi Il primo re si svolge Nel tempo in cui Le città non esistevano ancora Quando gli uomini Erano in balia Dell'acqua e del fuoco Quando la natura Incuteva terrore E gli dèi Sapevano essere feroci I punti di riferimento cinefili Di Matteo Rovere Sono ambiziosi Si fa da Revenant Di Alejandro Gonzales Inarritu A una serie di culto Come il trono di spade Linguaggio potente Respiro furente Corpi incrostati di fango E di sangue Ovunque minacce Insidie Aguati E la vita Come lotta Quotidiana Per la sopravvivenza In un impasto Di hubris e violenza Animato da un sentimento Panico della natura Senza che nessun Conformismo Politicamente corretto Cerchi di mitigare La sua fascinazione Barbarica E il suo dichiarato Primitivismo E brutalismo estetico Ma anche la sconsapevolezza Della centralità Dei corpi Visti nella ferocia Inappagabile Dei loro bisogni primari Tutto è perfetto nel film Dalla fotografia Di Daniele Cipri Che sa come rendere visibile Il sentimento Della paura Di fronte all'ignoto Alla recitazione Di Alessandro Borghi Che trova Con questo ruolo Feroce Dolente E sofferto Il suo posto definitivo Nella storia del cinema Ma non è lui Il primo re Lui è Remo È il fratello guerriero Quello più forte Più tenace Più spaventoso Ma non basta la forza Per essere re Ci vuole anche la pieta Se il suo fratello Romolo Ce l'ha Lui no Quindi Romolo vince Anche se Ci ricorda l'overe Noi italiani Siamo l'unica cultura Occidentale Che ha come mito fondativo Un fratricidio Non un parricidio Non osiamo sfidare Il padre La legge Il potere Preferiamo In qualche modo Ammazzarci Fra pari Un altro titolo Fortemente rappresentativo Della rinascita Del cinema di genere italiano È senz'altro 5 è il numero perfetto Il regista Igort viene dal fumetto E adatta per il grande schermo Una sua graphic novel Tutta collocata Al crocevia Fra il thriller Il noir E il film di Camorra E fin dai titoli di testa Con una silhouette nera Che si staglia Sullo sfondo giallo Fra crepitar di pallottole E sgommare di auto Il risultato è davvero stupefacente I colori sono a volte sgargianti A volte invece ci piombano Dentro una Napoli piovosa Umida Fradicia Melmosa Che non ha nulla a che fare Con la retorica E la mistica Della città Tutta pizza Mandolino E ossole mio Ci sono scene In cui lo schermo Contiene Ben tre riquadri luminosi Come nelle strisce di un fumetto E le trovate visive Pullunano Con una fertilità Davvero stupefacente Come quando la pagina Di un cruciverba Diventa tridimensionale E genera una specie di podio Su cui appare il protagonista Protagonista che è uno Degli attori italiani Iconici Contemporanei Tony Servillo Con un naso adunco Posticcio Che ricorda quello Del duca di Urbino In un celebre dipinto Di Piero della Francesca Il suo personaggio Si chiama Peppino Locicero È un guappo Ormai in pensione Costretto A tornare in attività Dopo che il suo Adorato figlio Viene tradito E ucciso In un agguato Camorristico Aiutatemi A diventare Quello che ero Perdonatemi Quello che sarò Dice la sua voce Fuori campo Mentre si accinge A tornare in azione E azione sarà Sarà vendetta Sarà carneficina Sarà tradimento Sarà lotta Per la vita Stilizzata E feroce Al tempo stesso Un po' noir Anni 50 Un po' Sergio Leone Con scene a ralenti In cui i personaggi Muoiono come Nel mucchio selvaggio Di Sam Peckinp È cinema Cinema che gioca Col visibile Cinema che fa Capriole col visuale Cinema che scherza Salta Sbanda Spazza Rompe Brucia Contaminandosi Con gli altri Linguaggi visuali Del nostro tempo Dalla grafica Alla pubblicità Per dar vita A un ibrido Che segna Una tappa importante Non solo nella storia Dei rapporti fra cinema E fumetto Ma anche nella ricerca Di un linguaggio Che non sia soffocato Dal cappio del realismo Il veterano degli autori Del cinema italiano È Marco Bellocchio Dopo la morte Di Bernardo Bertolucci Scomparso nel novembre Del 2018 E di Vittorio Taviani Deceduto anch'egli Nel 2018 Bellocchio resta Uno dei pochi Esponenti Della generazione Dei maestri Ancora in attività Da più di mezzo secolo Ricordo che Il suo film d'esordio Fu i pugni in tasca Nel 1965 Bellocchio fa un cinema Disturbante Un cinema non riconciliato Un cinema spesso abrasivo Un cinema che prende spunto Dal reale Ma poi va oltre È un cinema che non si limita A raccontare storie Ma si interrava ogni volta Su che senso abbia Oggi continuare A realizzare film Il suo ultimo lavoro Il traditore È una robusta rievocazione Della vicenda umana Giudiziaria e familiare Del pentito di mafia Tommaso Buscetta Che negli anni Ottanta Fece arrestare Centinaia di affiliati A Cosa Nostra Assestando una ferita mortale Alla organizzazione criminale Nel film interagiscono Diversi regimi di sguardo La ricostruzione oggettiva Della vicenda Che induce Buscetta A collaborare Con il giudice Giovanni Falcone La narrazione E l'evocazione Di fatti Storicamente accertati Affidata al repertorio televisivo E alle immagini Dei telegiornali E poi il registro Più visionario Quello che fa irrompere Nella messa in scena I fantasmi Che popolano La mente di Buscetta I suoi incubi I suoi ricordi Le sue paure I tre registri La ricostruzione filmica La comunicazione mediatica E la percezione allucinatoria Coabitano E si intersecano Con una scorrevolezza E una forza nuova In bell'occhio Che qui riesce davvero A cesellare Il ritratto Di un uomo d'onore Che soprattutto Nella prima parte Sembra avere La statura Di un padrino Coppoliano Grazie anche Alla superba interpretazione Di Pierfrancesco Favino Che dà vita qui Al suo personaggio Più memorabile Un uomo Consapevole Del destino di morte Che tutti Ci attende Paolo Sorrentino Il più visivo Il più iconico Fra gli autori italiani Quello che ogni inquadratura Inventa punti di vista Impossibili E dialoga Con forme avanzate Di arte figurativa Contemporanea Sorrentino Dopo l'Oscar Nel 2014 Con la grande bellezza Insegue e disegna Metafore del potere O nella duplice serie The young pop The new pop O cercando di afferrare Il fantasma Del più discusso Leader politico italiano Negli ultimi decenni Silvio Berlusconi Ridotto a una maschera di cera O a un tatuaggio Epidermico Sul fondo schiena Di un personaggio Ma è anche un vitalissimo Edonistico protagonista Berlusconi Appunto di loro Film in due parti Dichiaratamente in bilico Lo dice Sorrentino Fra l'inautentico e il nulla Dove il vero protagonista Non è tanto lui Il leader imprenditore Ma sono loro Cioè la sua corte Di adulatori Maggiordomi Opportunisti Traffichini Faccendieri Corruttori Imitatori Qualcuno ha detto Che loro Non è tanto un film Su Berlusconi in sé Ma sul Berlusconi Che è un po' In tutti noi italiani Mario Martone Martone è napoletano Autore di film capitali Come Il giovane favoloso Dedicato al poeta Giacomo Leopardi L'autore di L'infinito Ma anche autore Martone di Noi credevamo Epica ricostruzione Del processo storico Che nell'ottocento Portò all'unificazione Del paese E alla nascita Del Regno d'Italia Martone quest'anno Si è dedicato A rivisitare E a trasferire Sul grande schermo Un capolavoro Del nostro teatro Come il sindaco Del rione sanità Di Edoardo De Filippo Il sindaco in questione È un uomo d'onore Un guappo Un raddrizzatore di torti Uno che In uno dei quartieri Più popolari di Napoli Sistema le cose Risolve problemi Quelli che non hanno santi In paradiso Si rivolgono a lui E lui intercede In loro favore Fa quello che può Mette a posto Non è un malvivente In senso stretto Ha una sua etica È un paladino Della giustizia Sia pure di una giustizia Esercitata a modo suo A volte anche con il ricorso Alla minaccia O alla violenza Il personaggio di Edoardo Era un settantenne Quello di Martone Era un quarantenne Ed è mosso Da un'energia virile Che sostituisce La pacatezza semile Del personaggio eduardiano Ma questo è l'unico scarto Davvero vistoso Che Martone si concede In un film Che è un omaggio fedele E affettuoso A uno dei capolavori Immortali Del teatro italiano E partenopeo E infine Matteo Garrone Dopo il bellissimo Il racconto dei racconti Del 2016 Esempio strepitoso E rapinoso Di fantasy italiano Che affonda le sue radici Non nel gotico nord europeo Ma nel barocco napoletano Del seicento E dopo Dogman Ambientato nell'inferno A cielo aperto Di Castel Volturno Fra la sabbia e il fango I palazzi lebrosi Il sangue che scorre La degradazione lurida Di vite sbagliate Di esistenze perdute In un film Che ci porta Fin dentro La degradazione Assoluta Della solitudine Della sopraffazione Laddove l'umano Si compie Cessando di essere tale Quest'anno Garrone Si è cimentato Con un classico Della letteratura popolare Italiana Come il Pinocchio Operazione coraggiosa E sfida riuscita Garrone infatti Rilegge Collodi Mescolandolo Con il tema Ovidiano Delle metamorfosi Tutte le creature Che popolano L'universo diegetico Mutano Si trasformano Un pezzo di legno Diventa un burattino parlante Il gatto e la volpe Da animali quali erano Nel romanzo di Collodi Diventano Personaggi umani Pinocchio e Lucignolo Si trasformano in ciuchini E' proprio la scena La scena dei corpi E della confusione Della specie Ecco Collodi Va a braccetto In qualche modo Con Fedro Con Apuleio Con tutta la tradizione Vernacolare contadina All'insegna Di una visività Realistica E visionaria Al tempo stesso Che mescola e fonde La memoria Delle illustrazioni Di Enrico Mazzanti Per il primo Pinocchio Del 1883 Con la lezione Dei macchiaioli Toscani Pittori macchiaioli Toscani Di fine Ottocento Che meraviglia Che godimento Per gli occhi Che capacità Di fare di un film Un congegno Visivo Che sa generare Un mondo La maggior parte Dei film Oggi Imita mondi Che esistono prima E a prescindere Dal film Garroni invece Crea un mondo Che prima non esisteva Che esiste solo Nel film E grazie al film Che è il film Film mondo In una voluta Confusione Fra realismo E visionarietà E con la celebrazione Del librido Come forma estetica Specifica Del nostro tempo La comedia È l'unico genere Che il cinema italiano Abbia frequentato Con assiduità E con continuità Dagli anni 30 A oggi È il dispositivo Attraverso cui L'Italia moderna Ha raccontato se stessa Ha messo in scena I suoi vizi Le sue virtù Ed è il genere Che ha schiacciato Tutti gli altri Soffocando sul nascere Ogni tentativo Sistematico Di incalzare La sua egemonia Narrativa E produttiva Ed è anche il genere Che da sempre Ottiene il favore Del pubblico E conquista I maggiori incassi Al box office Dopo anni Di predominio Indiscusso Di commedie triviali E spesso Assolutorie Nei confronti Dei peggiori stereotipi Dell'italianità Penso ai cosiddetti Cine Panettoni Che uscivano puntualmente A Natale E arrivavano Ogni volta In vetta Alla classifica Degli incassi Da qualche anno A questa parte Si è andata Affermando Una nuova commedia italiana Meno compiaciuta Dei vizi Dei personaggi Che mette in scena E più capace Di tessere trame Fra il ridicolo E l'ironico Inserendovi anche Una critica Non banale Della società Gli autori Più rappresentativi Di questa nuova commedia Sono sicuramente Massimiliano Bruno Tra cui Ultimi lavori Ricordiamo Beata ignoranza E non ci resta Che il crimine Sidney Sibiglia Smetto quando voglio Paolo Genovese Perfetti sconosciuti Alessandro Genovesi Dieci giorni senza mamma E il duo comico Ficarra e Picone L'ora legale E il primo Natale Il campione Indiscusso Della nuova commedia italiana E' però Luca Medici Attore e performer Pugliese Che ha dato vita Al personaggio Di Checco Zalone Trasformando In nome proprio Un modo di dire Dialettale Che Cozzalone In Pugliese Il Cozzalone Da cozza Mollusco E' uno smidollato Senza carattere Senza gusto Senza forma A Napoli direbbero Un tamarro Una persona Rozza Di bassa Estrazione sociale Poco acculturata Dei modi Eccentrici E per nulla Raffinati Luca Medici Ha fatto di Checco Zalone La maschera Più rappresentativa Dell'Italia Contemporanea Checco Nel far finta Di essere scemo Esibisce una stupidità Disarmante Non capisce Di una ignoranza Abissale Di fronte a lui Anche lo spettatore Più sprovveduto Si sente un genio Si illude Di essere intelligente E così facendo Checco regala Al suo pubblico Quella che già Baudelaire In un bellissimo saggio Di metà ottocento Indicava come L'essenza Del comico Il sentimento Di superiorità Rido Perché mi sento superiore Rido Perché vedo La tua ignoranza E mi sento Assolto Dal timore Di essere ignorante Anch'io Rido Perché tu Con la tua meschinità Mi fai sentire Un gigante E gli italiani ridono Di fronte a un personaggio Come Checco Che fa registrare Al box office Gli incassi più alti Mai realizzati In Italia Da nessun altro film Neanche dai più amati Blockbuster Hollywoodiani Non è solo a catinelle Del 2013 52 milioni di euro Quovado Del 2016 65 milioni di euro Tolo Tolo 2020 47 milioni di euro Rispetto ai modelli comici precedenti Checco Zalone Introduce una forma Di comicità orizzontale Abbastanza innovativa Per l'Italia Il suo personaggio Non si erge Verticalmente Sopra il mondo Per farne oggetto Di satira Ma offre se stesso Il suo corpo Da italiano medio Come zimbello comico Che genera Una comunità orizzontale Di partecipanti Uniti Sotto il segno Liberatorio Del riso Nel suo penultimo film Quovado Checco Zalone Aveva strapazzato Il culto italiano Del posto fisso Nell'ultimo Tolo Tolo Indaga un tema Molto caldo Anche sul piano mediatico Oltre che Su quello sociale Cioè il rapporto Dell'italiano Con i migranti Con gli stranieri Con gli africani Che approdano Sulle spiagge italiane Dopo aver attraversato Il mar Mediterraneo Sul piano formale Tolo Tolo È molto interessante Perché ibrida Intergeneri linguaggi Diversi Con una ribalderia Con una esuberanza Davvero Travolgente C'è il musical E c'è il cartone animato Disneyano Ci sono i balletti Aquatici Alla Esther Williams E c'è l'action movie Ci sono i toni Da commedia cinica Che a volte Trascolorano invece Nel romantico C'è citato In qualche modo Pasolini Con Mamma Roma Ed è citato Steven Spielberg Con Salvate il soldato Ryan Insomma L'ibridazione Non è solo il tema Del film Ma diventa anche Il suo linguaggio E il pastisce Diventa la forma Che consente Al film Di aderire Al suo oggetto Rispetto ai film precedenti Tolo Tolo Presenta però Una differenza Non trascurabile Prima Checco era Tendenzialmente Un personaggio evolutivo Mentre in Tolo Tolo Non lo è più Alla fine di Cuovado Il suo penultimo film Checco abbandonava L'idolateria del posto fisso E andava a fare Il volontario in Africa Con una compagna Che aveva tre figli Da tre uomini Di etnie diverse In Tolo Tolo Invece Checco Rimane identico a se stesso Scappa in Africa Sfugge a un attentato terroristico Attraverso il deserto Finisce in un carcere libico Si imbarca su una nave di profughi Che attraversa il Mediterraneo E riapproda in Italia Restando sostanzialmente Quello che era All'inizio del film Fedele all'unico culto Dell'acido ialuronico Del corpo abbronzato E degli abiti firmati Senza che gli avvenimenti A cui assistito In cui è rimasto coinvolto Siano riusciti a scalfirlo E in qualche modo A trasformarlo Voglio dire Checco entra in contatto Con un'altra cultura Ma non capisce Continua ad applicare I suoi schemi mentali A una realtà Che richiede sguardi diversi Continua ad essere Il Candide Un po' troglodita Che proprio perché non vede Riesce però a far vedere noi Come diceva Roland Barthes A proposito di Charleau Vedere qualcuno Che non vede È il modo migliore Per vedere Quello che non vede Sembra un gioco di parole Ma non è così Charleau non vede L'ingiustizia di cui è vittima Quando in tempi moderni È costretto All'inferno Della catena di montaggio Non percepisce Quel suo dover Continuamente avvitare bulloni Come l'effetto Del modo di produzione fordista Ma come un destino A cui sarebbe vano Ribellarsi E infatti lui non si ribella Charleau non vede Perché Noi possiamo vedere Ciò che lui non vede E una cosa analoga Si può dire anche di che Colui non vede Ma noi vediamo Non solo la povertà E la dignità degli africani Vediamo anche colui Che sembrava l'africano Più colto e istruito Quello che era Fan del cinema neorealista Che in realtà è un traditore Vediamo che il reporter Francese umanitario È in realtà un odioso Radical chic Che abbandona I suoi compagni di viaggio In un carcere libico E così via Checco non capisce Siamo noi spettatori Che dovremmo capire A dimostrazione Che il cinema Non finisce mai Dentro il perimetro Dello schermo Ma esce fuori Ci coinvolge Ci pone domande Esige risposte E allena il nostro sguardo A vedere meglio il mondo In cui ci è dato di vivere Mondo di cui anche il cinema Fa parte Questa credo È la lezione più importante Che la commedia Sulla scia della lezione Di grandi maestri Come Paolo Virzi E come Carlo Verdone Continua a dare Al pubblico italiano E al pubblico Di tutto il mondo Grazie a tutti